E' iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2023 de Il Sentiero di Francesco, il pellegrinaggio a piedi tra Assisi, Valfabrica e Gubbio, che si rinnova questo fine settimana nelle tradizionali giornate dell'1, 2 e 3 settembre. Un'iniziativa che festeggia quest'anno tre lustri esatti promosso e organizzata dalla Diocesi di Gubbio con la piccola accoglienza e l'ufficio delle comunicazioni sociali insieme alla Diocesi di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino, patrocinata dalla Regione Umbria con la collaborazione dei comuni di Assisi, Valfabrica e Gubbio. In questo settembre 2023 siamo giunti alla quindicesima edizione del Sentiero di Francesco. Questo cammino ormai tradizionale della Diocesi di Gubbio è aperto a tutti che da Assisi torna a Gubbio con tre giorni di cammino in mezzo ai boschi che anche San Francesco ha percorso in quel inverno fra il 1206 e il 1207 dopo aver lasciato tutto rinunciato all'eredità paterna per dare tutta la sua vita al Padre dei Cieli e cominciare la nuova vita che appunto comincia a Gubbio. Questo tradizionale pellegrinaggio vede sempre di più partecipanti convinti e contenti di condividere insieme un percorso bellissimo in un periodo sicuramente favorevole anche se il Sentiero è percorso tutto l'anno da tantissime persone ma anche questa riflessione che ogni anno si rinnova e che da quest'anno seguirà un po' il percorso degli anniversari francescani che si stanno celebrando ad Assisi e in tutta Lumbria. Saremo sicuramente tanti nella semplicità che ha sempre contraddistinto questo momento come occasione di prima di tutto vivere insieme la fraternità e condividere le bellezze del creato. Si parte la mattina di venerdì 1 settembre da Piazza del Vescovado ad Assisi con arriva a Valfabrica alle 16.30. Sabato 2 settembre l'itinerario si sposterà verso San Pietro in Vigneto e domenica 3 settembre il cammino arriverà a Gubbio nel Parco della Riconciliazione che ospiterà il conferimento del premio Lupo di Gubbio con la preziosa maiolica che lo scorso anno fu donata alla confraternita di San Jacopo di Compostela dello storico Paolo Caucci von Sauchen dalle mani del compianto maestro ceramista Gian Pietro Rampini. Ci prepariamo a vivere anche quest'anno il sentiero di Francesco. Molti amici ancora una volta ci raggiungeranno per camminare con noi sulle orme di Francesco che spogliandosi di tutti i suoi beni cammina verso Gubbio e anche noi vogliamo rivivere questa esperienza e metterci in cammino. Ci raggiungeranno da tutta Italia tanti amici che hanno già camminato con noi e alcuni che si aggiungono per la prima volta in questa quindicesima edizione che sicuramente possiamo dire essere caratterizzata dal primo dei centenari francescani che ci prepariamo a celebrare, quello dell'approvazione della regola. 800 anni fa Francesco sempre a piedi si mette in cammino, va a Roma dal Papa e chiede di approvare la regola dei frati minori, una regola fatta di Vangelo. Questa regola sarà un po' lo sfondo del nostro percorso, la leggeremo insieme, proveremo a riflettere sulle parole di Francesco questo suo messaggio attuale dopo otto secoli che ancora una volta parla non solo ai frati e alle suore ma a ogni uomo e a ogni donna che decide di mettersi in cammino.